E' Augusto Marasco il candidato sindaco del centro-sinistra di Foggia. L'ex assessore all'urbanistica si è aggiudicato le primarie strappando la vittoria Gianni Mongelli, favorito alla vigilia della competizione elettorale. Quella di Marasco è stata una vittoria netta. In terza posizione il renziano Lorenzo Frattarolo che, nonostante l'appoggio del sottosegretario Ivan Scalfarotto, ha ottenuto 1.374 voti, pari al 15,65% delle preferenze. A seguire l'unica donna in lizza, Rita Sarrao, con 640 voti. Fanalino di coda, infine Nino Abate, che ha totalizzato poco meno di 300 preferenze. Le carte scoperte del sindaco Gianni Mongelli non sono riuscite ad avere la meglio su Marasco. L'architetto ha abbattuto l'ingegnere portando a casa la sfida personale che sin dall'inizio lo ha visto contrapposto al primo cittadino. Precisamente da quando il 12 febbraio, a una settimana dalla presentazione delle liste, Mongelli gli aveva tolto la delega all'urbanistica accusandolo di tradimento e costringendolo il giorno dopo a rassegnare le dimissioni. Poi il 14 febbraio l'annuncio ufficiale di Marasco candidatosi alle primarie per sollecitare l'impegno politico, accompagnato da un crescendo di consensi. Considerando il livello di partecipazione, che è sicuramente il dato che emerge da queste primarie, non è un dato imprevisto, imprevedibile. Adesso ripartiamo, ripartiamo tutti quanti insieme e ripartiamo per centrare l'obiettivo del 25 maggio. Il dato è quello di una forte richiesta di rinnovamento. Questo è un dato incontrovertibile. Rispetto a questo messaggio che il popolo delle primarie ha lanciato in questa giornata, dobbiamo costruire, ripeto, le condizioni per centrare l'obiettivo del 25 maggio. Le polemiche e le accuse, mosse nei confronti di Marasco, tacciato di non appartenere al Partito Democratico e di cercare voti nel centrodestra, non hanno svilito la forza delle idee e dei suoi contenuti, considerati più vicini alla gente e probabilmente più convincenti. Le primarie pongono fine all'era a Mongelli. La sconfitta del sindaco è anche quella della segreteria cittadina di Mariano Rauseo nel confronto interno al Partito Democratico e con la segreteria provinciale di Raffaele Piemontese. Per il centrosinistra si apre una nuova fase, ma non sarà semplice ricomporre i cocci di un partito sfilacciato, sofferente, disunito, ma pur sempre presente.